Come creare un indicatore personalizzato. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi riprendiamo il corso su come programmare trading system automatici, algoritmici. Avevamo iniziato, ragazzi, questa credo sia la diciottesima o la diciannovesima lezione di questo corso che avevo iniziato e poi messo in pausa dopo gli ultimi accadimenti dei mercati. Oggi riprendiamo con una nuova lezione e ripartendo proprio dall'ultima in cui vi avevo fatto vedere come inserire all'interno di un grafico delle medie mobili e il relative strength index. Quello che faremo oggi vi farò vedere come creare una funzione, come programmare una funzione per crearci un indicatore nostro, quindi un indicatore che non esiste partendo ovviamente da dei concetti e dei indicatori che già esistono. Ragazzi, se non avete visto le lezioni precedenti andatele a vedere perché è un percorso che didatticamente piano piano vi sta accompagnando nel mondo della programmazione di trading system automatici. Spero sia di vostro gradimento. Ci vediamo prestissimo. Un like, ragazzi, se questa serie di video vi piace perché ho visto che ci sono sempre poche visite su questi video e non capisco mai se c'è interesse e quindi continuare a farli. Vi sapete, sono un programmatore da più di 25 anni ormai e quindi è un po' il mio mondo, il mio pane quotidiano. Mi fa piacere darlo gratuitamente qua sul canale. Ci sono tanti che i corsi per programmare trading system li fanno pagare in maniera molto cara, quindi se l'argomento vi interessa like o un commento in modo che io lo possa capire. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, è anche un modo per supportare il canale. Noi ci vediamo prestissimo. Grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti. Ciao! Ed eccoci qui ragazzi, davanti a dove eravamo rimasti all'ultima lezione e quindi aggiungiamo questa quarta parte. Allora, in questa quarta parte voglio sicuramente farvi vedere un po' di cose. In primis, come si crea una funzione con un indicatore personalizzato. Prima di far questo voglio andare a farvi vedere una funzione, vi ricorderete come si aggiungono gli indicatori, con la funzione add.indicator. Bene, quello che voglio andare a far vedere è andare ad aggiungere, andiamo a scrivere candle chart, che è il nostro, per farci disegnare il grafico, app.call. Vi ricorderete, vado veloce qua ragazzi, semplicemente perché queste cose le abbiamo già viste e riviste durante le lezioni precedenti. Uguale a red, sto solo creando le candele, dicendogli che il tema che voglio è white, bianco. Ok, perfetto. Quindi se eseguo questa, eccolo qui, ottengo il, vedete, il grafico di Facebook dal 2010, non mi ricordo più quali erano le date, dal 2010, gennaio 2010 fino a 2019, gennaio 2019. Bene, e mi sono disegnato le mie, il mio grafico. Come vedete, faccio clic su zoom, vedete che all'interno del grafico non c'è nessun indicatore. Vi faccio vedere questa volta, l'altra volta vi ho fatto vedere come aggiungere le medie a 200 periodi, 50 periodi, 21 periodi, eccetera. Oggi vi faccio vedere come si aggiungono le bollinger bands. Con la funzione add bands, eccola qui, che prende come parametri il primo parametro, che sono esattamente i parametri che potete configurare all'interno solitamente dei vostri software che utilizzate. Questa è l'SD, che è la standard deviation, ragazzi, SD uguale, mettiamo 2. Questa MA, secondo voi che cos'è MA? È la media, qui potete dire che tipo di media usare, qui usiamo l'SMA, la simple. Poi, draw, come deve essere disegnata, e qui li mettiamo come bande, bands, virgola, on, e a questo diamo meno 1. Ora, se non ho fatto nessun errore di battitura, eccole qui le bande. Vedete, ho aggiunto le bande di bollinger all'interno del grafico, e qui ovviamente potete andare a zoomare, o semplicemente a... Qui adesso le vedete molto piccole, solo perché ragazzi, l'orizzonte temporale è molto grande, perché siamo partiti dal 2010 per arrivare al 2019. Bene, quindi questa era una cosa che volevo farvi vedere dall'ultima volta che c'eravamo visti. Potete ovviamente aggiungere l'indicatore anche con la funzione add indicator, ovviamente, e qui la strategy era strategy.st, virgola, secondo parametro, qui gli diamo il nome, e come nome gli diamo b bands, bollinger bands, virgola. Ora, come argomenti arguments, gli diamo... allora, ovviamente lista. Questa lista accetta high, low, and close, che è uguale a quote cl, la chiusura di FB. FBA è il ticker, è Facebook, bene, qui mettiamo una, uno e due, chiusura è qua, fatemi mettere una virgola, vado a capo, n uguale 20, ma type uguale SMA, virgola, S standard deviation uguale 2, e qua chiudo, virgola, perfetto, e adesso qua gli devo semplicemente dare una label, label uguale bande di bollinger, perfetto, e adesso, fatemi seguire per vedere se ho fatto errori, ho aggiunto alla mia first strat, che è la, se non vi ricordate, ve la faccio vedere creata qui, è la mia, vedete qui quando ho inizializzato l'account, ho inizializzato il portafoglio, gli ordini, la strategia, ed è qui che ho creato la mia strategia, qui in questo momento ho applicato un indicatore. Bene, quindi ragazzi, abbiamo visto anche come lavorare con le bande di bollinger, io adesso però voglio assolutamente farvi vedere come andare ad aggiungere, a creare una nuova funzione. Allora, come si crea una funzione in, mettiamo un commento, mia prima funzione. Una funzione che cos'è ragazzi innanzitutto? Non è altro che un insieme di azioni che possono essere richiamate all'interno di un programma più e più volte. Quindi, la funzione altro non è che una collezione di azioni, quindi posso fargli fare, non so, prendi questo valore, dividilo per quest'altro valore, aggiungici questo, vammelo a disegnare sul grafico, e questa funzione che fa queste cose può essere richiamata più volte, quindi è riusabile, per questo sono comodo, le funzioni all'interno del mio programma. In media, la chiamiamo media RSI, e in R, nel linguaggio di programmazione che stiamo utilizzando, semplicemente gli do il nome, ed è media RSI, ma qui la potevo chiamare Pippo, Pluto, come volevo, quello che gli vado a dare è la function, è la funzione, il nome funzione, in modo che lui sa che quella è una funzione, e gli dico che questa funzione accetta tre parametri, il primo è il parametro del prezzo, poi N1 e N2. Che cosa sono questi parametri? E adesso ve lo dico che cosa sono questi parametri. Questi parametri, ragazzi, sono gli argomenti che la funzione accetta. Quello che voglio farvi fare a questa funzione è, me lo vado a scrivere qua con i commenti, calcolare la media di due RSI. Quindi mi prendo l'RSI ad un periodo, mi prendo un secondo RSI ad un altro periodo, li vado a sommare e mi calcolo la media. E N, secondo voi, che cosa è? Sono i periodi dei due RSI, quindi N1 sarà il periodo a 7, 14, 21, 28, eccetera, e N2 è il secondo periodo. Quindi devo usare due costanti, due variabili, RSI1, che è uguale a che cosa? A, RSI1, quindi sto usando una funzione già, il cui price è uguale a che cosa? Al prezzo che entra dentro l'argomento, vedete che già mi ha fatto l'autocomplete, è questo argomento qui, aspettate che vi aggiungo un po' di spazio. È l'argomento price, virgola, come secondo parametro che accetta N, l'abbiamo già usata questa funzione, vado veloce anche qui, e qui metto N1. Ok? Quindi ho creato la prima variabile che contiene il primo RSI, il cui prezzo viene passato dalla funzione, il cui valore N, il periodo, viene passato da questo secondo argomento. Bene? Adesso devo solo fare RSI2, che è uguale a che cosa? La stessa cosa, RSI, il cui price è uguale a price. Questo price qui, ragazzi, vedete che è indicato anche con un simbolo diverso, è perché questo argomento, eh? Io qui, guardate, io questo lo potevo chiamare, forse per farvelo più capire meglio, lo chiamo prezzo. Qui a questo punto, così potete, vi rimane impresso di più prezzo. Quindi qua lo chiamo prezzo, perfetto, virgola N uguale N2. Giusto? E adesso voglio calcolare la media tra questi due. La media è molto semplice, calcolare la media. Come si calcola la media? Diciamo che, chiamiamola media calcolata, è uguale a che cosa? È uguale a RSI1 più RSI2, giusto? Diviso 2. Banalissimo, ragazzi. Bene, qual è l'output? L'output che mi devo far restituire è un nome di una cosiddetta colonna, quindi colnames, eccola qui, colnames, Ops, no, ho sbagliato l'autocomplete, scusate, colnames x è uguale a RSI1. E adesso return, perché questa funzione deve ritornare un valore che deve ritornare il valore x. E questo, scusate, eccola qui, eccola qui, ok. Devo mettere la x, l'avevo cambiata in media calcolata. Bene, ora, guardate, eseguo la funzione, innanzitutto vediamo se ci sono degli errori. Quindi, perfetto, non torna errori, quindi l'ho eseguita, l'ho eseguita in che modo? Ho selezionato, ragazzi, ho fatto run per vedere se c'erano appunto degli errori. Adesso aggiungiamo, quello che voglio fare è aggiungere questa funzione e usarla, quindi. Come posso usare questa funzione? In questo modo. Add, punto, quindi esattamente come fosse un indicatore, perché per noi quello è un indicatore, strategy uguale, no, strategy.st, virgola, name uguale il nome della funzione, media underscore RSI. Questo nome qui, ragazzi, è il nome della funzione che ho creato, lo vedete, bene, virgola, arguments, e qui devo dare i soliti argomenti, la mia solita lista, il cui price è uguale a quote, e qui dentro ci devo mettere la chiusura di FB, una chiusa, due chiuse, virgola N1, che è il valore del parametro, uguale a 7, quindi facciamo una media, la prima media è della media a 7 periodi, N2 è la media a 14 periodi, ok? Virgola, andiamo a capo, e gli devo dare una label, gli devo assegnare una label, è un nome mio, label uguale, e questa la chiamo, media underscore RSI, potete mettere quello che volete lì. Andiamo a vedere se innanzitutto abbiamo fatto qualche errore, no, perfetto, me l'ha aggiunta, quindi, adesso vi faccio vedere, voi mi potreste dire, come posso andarlo a vedere, guardate, faccio, semplicemente mi vado a far disegnare con il metodo plot, che cosa? La media RSI, che accetta come valori, come valori di prezzo, CL uguale, no, scusate CL uguale, CL Facebook, sto usando sempre il ticker di Facebook, virgola N1, questo è per fare un test, ragazzi, per vedere se funziona, virgola N2 uguale 14. Andiamo un attimo ad eseguirla, questa cosa, eccola qui, vedete? Qui ho la media tra l'RSI che si è verificato su Facebook dal 2010 al 2019, e come è, questa è la media tra l'RSI Relative Strength Index a 7 periodi e il Relative Strength Index a 14 periodi. Quindi abbiamo creato un nostro indicatore che calcola la media di due RSI con due parametri diversi. Perché? Perché magari nella mia strategia di trading che sto scrivendo, non uso l'RSI a 7 periodi e nemmeno quella a 14, ma uso la media di questi due, quindi potrebbe essere semplicemente un input del mio trading system. A questo punto vi faccio vedere come si usa anche, come si applica un indicatore per testare i nostri indicatori, e qui vi faccio vedere test, quindi qua io ho fatto vedere come si crea un test per vedere la funzione disegnata, ma qui su test io vado a usare Apply Indicators, che prende come primo valore, qui c'è strategy, che è uguale a che cosa? Alla mia strategia, strategy.st, eccola qui, virgola mkt data, eccolo qui, o, quindi open, high, low, close, di che cosa? Di Facebook. Eseguo il mio file e qui posso andarmi a vedere questo test, guardate, se io apro questa variabile, vi faccio vedere che qui dentro avrò che cosa? Tutti i valori di Facebook, e quindi avrò il Facebook open, high, low, close, o le medie, la media 50 periodi, e anche la mia RSI media. Vedete? Mi sono fatto scrivere, c'ho anche le bande di Bollinger, perché ovviamente ho aggiunto tutto, e qui ho la mia RSI underscore media, che è la media calcolata tra quella a 7 periodi e quella a 14 periodi. Quindi ragazzi, vedete che abbiamo creato la nostra funzione e l'abbiamo anche sperimentata. Vi faccio vedere l'ultima cosa, posso fare un test anche solo di un subset di dati, per non vedere tutto quanto, quindi gli posso dire, fammi un test di, e qui uso la short notation, e qui posso scrivere una data, tipo, non so, dal 2018.01.01, al 2018, scusami, 19.01.01.01. Qui eseguo, e se vado a vedere, eccolo qui, vedete che questa volta i dati partono dal primo gennaio del 2018 fino al primo gennaio del 2019, quindi ho fatto solo il test di un subset. Bene ragazzi, con la lezione di oggi possiamo dire che siamo arrivati al punto in cui, dalla prossima lezione, andiamo a vedere come costruire un segnale per andare a, come costruire un segnale per andare a creare il nostro primo trading system. Spero che la lezione sia stata chiara per tutti, come al solito esercitatevi, 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 ragazzi noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!